Chi pratica e crede nella non-violenza la deve usare innanzitutto nella sua vita quotidiana. Fare guerre per motivi economici, per motivi di scontri di civiltà. Mentre è più interessante riuscire a trovare la via della pace, la non-violenza è l'unica via di uscita. Anche io voglio un'Europa libera dalle armi nucleari. Grazie.